Grazie a tutti Parliamo di Martina, Martina pensate che ovviamente essere oltre tua figlia rimani in automatico anche cugina di Cristiano Perché se la matematica non è un'opinione La cuginetta di Cristiano La cuginetta A 15 anni proprio con Cristiano canta e partecipa alla trasmissione televisiva raccomandati Com'è finita quella trasmissione? Ma è finita che Cristiano mancava dal video da molti anni Quindi parliamo di 15 anni fa all'incirca Qualcosa di più In pratica abbiamo chiesto a Cristiano di far cantare Martina a questo teatro delle vittorie a Roma E la realtà è che è andata bene È andata bene E per lui Nel senso che lui è rimasto ai raccomandati Ha fatto il conduttore Ora fa il conduttore in tutte le trasmissioni Quindi diciamo che Martina ha aiutato Cristiano Malgioglio Ha rilanciato Cristiano Malgioglio Si sono un pochettino invertite le cose Però è stata una bella esperienza E lei credo che Dobbiamo dire che ha duettato con grandi anche tua figlia Che nel frattempo è cresciuta Assolutamente Ha duettato con Enrico Ruggeri È stata corista di Fausto Leali Dei Camaleonti Di Pachi Dei New Trolls E con la Giamburrasca Band E anche lei attiva nelle vostre Ovviamente Nei vostri progetti È una delle coriste e cantanti Della Giamburrasca Band Martina Malgioglio Eccola qua L'adotto, l'adotto Buonasera Allora in bocca al lupo Crepi Grazie Io e te Io e te Perché io e te Qualcuno ha scelto Forse per noi Mi sono svegliato solo Poi ho incontrato te L'esistenza L'esistenza un buono diventò per me Nella stagione Vento nel vento Vento nel vento Io e te Nodo nell'anima Stesso desiderio di morire E poi di vivere Io e te L'esistenza un buono diventò per me L'esistenza un buono diventò per me Fiori Fiori Tra le tue braccia calde Anche l'ultima paura Morire E poi di vivere E poi di vivere E poi di vivere E poi di vivere Tantissima paura L'esistenza un buono diventò per me Grazie.